Buonasera a Danilo Toninelli e Movimento 5 Stelle e buonasera a Maurizio Lupi di Noi con l'Italia. Allora, onorevole Toninelli, cominciamo da lei. Su questa questione di macerata voi siete stati piuttosto silenziosi. L'unico che ha preso una posizione molto netta è stato Roberto Fico. Avete paura di esporvi su un tema così impopolare? Io penso che i cittadini si dovrebbero ringraziare di essere stati coerenti con una accusa forte ovviamente al criminale nigeriano, al criminale italiano, perché sono dei crimini efferati che devono essere sottoposti alla giustizia e devono essere condannati. Ma non accettiamo, e se questo è quello che lei intende con la parola silenzio, non accettiamo che la politica dei vecchi partiti utilizzi strumentalmente episodi come questi per posizionarsi, identificarsi con le proprie ideologie di destro e di sinistra. Qua c'è da andare a valutare i fatti. Il fatti è che, parliamo di immigrazione, chi oggi dà la colpa alle porte aperte del centro-sinistra è la Lega e Forza Italia, ma la legge sull'immigrazione oggi è quella legge Bossi-Fini, quindi andassero a guardare in casa propria. Dall'altra parte chi dice che Salvini è il mandante di quel Traini, anche lì sta speculando, soffiando sul fuoco. Oggi bisogna affrontare i problemi. C'è un problema sicurezza? Certamente che c'è. Un problema anche conseguente ad uno stato sociale di difficoltà degli italiani, con poco lavoro, con poca speranza, con poca serenità. Come si permettono i vecchi partiti di esasperare gli animi per ottenere un voto in più, sfruttando un episodio tanto grave in cui bisogna stare zitti e aiutare gli italiani a risolvere i propri problemi? Però Roberto Fico ha detto che quello di Macerata è stato un atto di terrorismo esattamente come quelli dell'ISIS. Lei condivide queste parole oppure no? Allora, l'atto del nigeriano che è sottoposto in dasi, l'affermo delle forze dell'ordine, è un atto criminale, per me è un atto criminale, è anche un atto terroristico, fatto da quel pazzo italiano che pensava di aiutare gli italiani per dar loro sicurezza inculcando un immane terrore andando in giro per due ore a sparare. Sono atti criminali, però, Berlinguer, io non voglio parlare dell'episodio singolo con etichette politiche. C'è un problema sicurezza, se poi ci sarà l'occasione, andiamo a guardare come stanno le forze dell'ordine. Io sono un ex ufficiale dei Carabinieri, parlo con la polizia penitenziaria, so che gli mancano personale e gli mancano dotazioni organiche. Questo genera insicurezza. Adesso affrontiamo anche la questione del Movimento 5 Stelle di oggi, la vogliamo affrontare subito, poi torniamo sulle altre. Oggi c'è molta polemica che vi riguarda, perché comunque, appunto, secondo un servizio delle Iene, ma non solo, nelle vostre rendicontazioni, cioè voi restituite parte del vostro stipendio, spieghiamolo subito, date parte del vostro stipendio a un fondo per le piccole imprese del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia. Ecco, sarebbe venuto fuori che, come dire, alcuni di voi, tra cui si fanno anche nomi importanti, avrebbero fotografato questo bonifico per, insomma, dimostrare di aver istituito, dato questi soldi, ma invece poi avrebbero ritirato quel bonifico. Allora, voi naturalmente dite, intanto noi quei soldi li diamo e gli altri non li danno. Questo ha detto oggi Di Maio, andremo fino in fondo, vedremo, eccetera. Diciamo che i nuovi nomi che si fanno sono anche l'Alezzi, che è già, e anche Bucarella, quindi sono dei nomi significativi. Però, ecco, dal vostro movimento ci si aspetta soprattutto onestà, trasparenza, perché ne avete fatto un fondamento, come dire, anche fin dalla vostra nascita. Com'è possibile che accada questo, che voi non ve ne accorgiate? Allora, sì, io la ringrazio di darci questa possibilità, perché è fondamentale che tutti sappiano, non le restituzioni, ma le rinunce che i portavoce del 5 Stelle hanno fatto in questi anni. Una piccola premessa, io non accetto lezioni da chi, come Lupi, mi definisce, si definisce dilettante allo sbaraglio, Lupi si dimise per delle faccende collegate a un Rolex, si vergogni quando va ad attaccare una persona che ha restituito fino a quasi 150 mila euro di stipendi che potevano essere miei e che lo erano legittimamente. Quello che dico è, è inaccettabile, dottoressa Berlinguer, abbinare la parola rimborsopoli al Movimento 5 Stelle, ma ci rendiamo conto che dal 2013 ad oggi e per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana una forza politica si presenta dicendo che rinunce ai finanziamenti pubblici l'ha fatto, 42 milioni di euro, che ci dovevano aspettare dal 2013 in poi e in più si dimezza lo stipendio. Io sono stato vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, avevo diritto all'indennità di parecchie centinaia di euro al mese che ho rifiutato. Detto questo, ovviamente noi però pretendiamo perché è un caposaldo del nostro modo di essere e di fare politica che tutti l'abbiano fatto e lo debbano rispettare. Quindi quelle persone di cui lei sta parlando sono state, sono sottoposte a controllo del Collegio dei propri diri ma non accetto lezioni da parte dei vecchi partiti. Do un dato, dottoressa Berlinguer, un dato solo. Dal 94 al 2015, quando è stata cambiata la legge dopo un referendum popolare che aboliva i finanziamenti, i partiti vecchi che esistono ancora li hanno trasformati in rimborsi che significa tanto spendo quanto ottengo dallo Stato. Da allora, 2 miliardi e 400 milioni di euro incassati dai partiti rendi contati 729 milioni. Lascio ai cittadini che ci ascoltano capire quanto si sono intascati il malloppo i vecchi partiti. Non si permettono di chiamare il Movimento 5 Stelle in abbinamento alla parola rimborsopoli. Volevo chiederle questo. Voi avete detto che qualunque parlamentare debba essere coinvolto in questo finto bonifico a cominciare da due che già Martelli e Cecconi sono praticamente già quasi fuori dal Movimento 5 Stelle sarà duramente punito. Però purtroppo ormai chi è candidato e facciamo anche l'esempio di un'altra candidatura che è stata considerata sbagliata, quella di Vitiello che si è visto che è stato iscritto a una loggia massonica incompatibile con i vostri principi. Però ormai questi saranno eletti e poi per farli dimettere il Parlamento dovrà bocciare e approvare le loro dimissioni. Quindi come farete? Allora innanzitutto appuro come quando si parla di moralità il signor Lupi sia in grande difficoltà. Quelli che ci seguono da casa devono capire un concetto che è scontato ma è giusto ripeterlo. La politica si è allontanata dal cittadino normale perché i politici hanno acquisito ma tutti anche i regionali nominati dalla politica nelle società partecipate hanno acquisito talmente tanti privilegi da distaccarsi completamente dalla realtà. Il signor Lupi che sbraita a Vamber ma lo fa da anni, penso che abbia fatto 6, 5, 6 legislature quando abbiamo portato in auli vitalizie un qualcosa di abominevole un privilegio abominevole che hanno ancora più di 2000 ex parlamentari e che hanno la pensione privilegiata i parlamentari del futuro. Ha votato contro. Loro vogliono mantenersi all'ultimo piano di una torre per essere diversi e più fortunati e non dover rispettare le file. Detto questo vengo alla sua domanda. Noi abbiamo fatto firmare e faremo firmare un documento di dimissioni che significa 1. sei fuori dal Movimento 5 Stelle e 2. ti devi dimettere dal Parlamento. Questa espressione di volontà dovrà poi essere ratificata è vero dal Parlamento ma è un'espressione di volontà che già esiste e che farà in modo se ci saranno persone serie negli uffici delle giunte per le elezioni non gente dai vecchi partiti che allunga di anni le decisioni circa l'accettazione di una richiesta di dimissioni perché questo accade. Se non c'era il Movimento 5 Stelle al Senato che ha permesso di votare palesemente l'estromissione del pregiudicato Berlusconi avrebbero votato anche i lupi avrebbe votato con voto segreto e l'avrebbero di nuovo salvato. Quindi con noi chi non si è comportato bene non con una sentenza penale passata in giudicato ma perché ha fatto un po' il furbetto però dottoressa Bellinguer quelle persone che lei ha nominato che erano in ritardo con i pagamenti delle donazioni di loro stipendi le hanno tutte saldate. Noi abbiamo restituito più di 23 milioni di euro i soldi che potevano essere nostri. Però questi soldi non si capisce se 226 mila oppure 500 mila euro. Su più di 23 milioni di stipendi che mai nessuno nella storia aveva mai restituito. Non voglio parlare tutta la sera di questo perché voglio chiederle anche Onorevole Lupi ma lei se e adesso vedremo anche gli ultimi sondaggi se sarà Salvini a diventare Presidente del Consiglio come ci si trova in quell'alleanza diciamo con il centrodestra? Intanto mi veniva da sorridere perché l'Onorevole Toninelli che ricordo costa esattamente come me agli italiani se non sono neanche in grado di controllare dei rimborsi dei loro dei loro dei 110 180 200 deputati si candidano a governare i conti della settima potenza mondiale ma questo non è un problema Toninelli tu davanti a me dovresti solo dire che portare rispetto perché io sono l'unico che si è dimesso senza aver fatto assolutamente nulla e il tempo è galato 10 secondi Onorevole Toninelli veramente 10 perché abbiamo in tutto 48 la prima cosa che farete se diciamo riuscirete a governare questo paese accettereste un governo non guidato da Di Maio? Mi dica solo sì o no ma guardi ma non è quello ci servono governi infatti di programmi che risolvono i problemi degli italiani noi lo proponiamo con Di Maio con una squadra di governo di persone serie e all'altezza con tanto di mani libere Onorevole Lupi una battuta sui Volta Gabbana abbiamo già la soluzione con un governo a 5 stelle di Volta Gabbana da 570 come è capitato in questa legislatura ce ne saranno zero Grazie, grazie Onorevole Lupi 10 secondi